Mi chiamo Cristiana Vannini, sono fiorentina e sono arrivata a Milano ormai più di 25 anni fa. Il prodotto che noi abbiamo disegnato e intorno al quale è nato questo brand si chiama Fassamano ed è questo oggetto per la lettura che diventa anche un accessorio monile. È un oggetto interamente prodotto in Italia e tra l'altro prodotto in modo completamente artigianale andando a recuperare una delle tradizioni più significative della creazione dell'occhiale italiano in Cadore. L'incontro con Design Italy non è stato casuale, io credo, perché quando delle realtà lavorano sugli stessi temi in qualche modo si incrociano. Come noi, Design Italy lavora sul recupero dell'artigianalità, sui suoi valori, sulla sua storia, così come fa Fassamano. e credo che insieme potremo dare un contributo a una storia del design italiano e a un made in Italy veramente di qualità.